Sono Antonello Casiglio, il mio nickname è Fullman70, mi sono qualificato online su www.isopfriend.it Ho conosciuto le ISOP due anni fa in modo molto particolare, nel senso che ero all'Expo e c'era uno stand dimostrativo dell'Hotel Perla e invitavano a fare dei sit-and-go, dimostrativi gratuiti e c'era un rimpaglio, per tutti c'erano dei premi, io questo sit-and-go l'ho giocato, sono arrivato primo e il premio che ho vinto è stato due notti per due persone all'Hotel Perla. Quando sono andato al Perla ho visto che c'era, era un giovedì sera, c'era un free roll per vincere, per partecipare al torneo dal vivo al Perla e allora l'ho fatto, era un free roll, c'erano anche dei re-buy ma non li ho fatti e sono riuscito a vincerlo e quindi ho potuto partecipare alla tappa e poi sono riuscito a arrivare fino in fondo e ho vinto la tappa. Dopodiché ho continuato a fare anche le altre tappe e alla fine sono riuscito a qualificarmi per andare a fare il viaggio a Las Vegas con l'ISOP, è stata un'esperienza molto bella che consiglio a tutti. poker mi piace molto di più giocarlo dal vivo e quindi cerco sempre di trovare dei satelliti online per potermi qualificare a questi eventi e su ISOP Friend è molto bello perché oltre a dato il pacchetto ti danno anche la possibilità di dormire per due notti quindi la spesa è praticamente nulla e io cerco sempre di partecipare a questi satelliti e li consiglio a tutti. Quest'anno il mio sogno sarebbe poter ritornare a Las Vegas e magari portare anche mia moglie che l'anno scorso non è potuta venire.